I lavoratori precari del Comune di Riposto, insieme al Sindaco Enzo Caragliano, hanno partecipato a Palermo a uno sciopero regionale dei lavoratori a tempo determinato e LSU della Regione, degli enti regionali, ex province, comuni e settore sanità. Da ben 16 mesi il Comune di Riposto anticipa i soldi per gli stipendi di questi lavoratori fondamentali per gli enti locali. Siamo stati lì per gli articolisti perché è giusto, perché mi ha detto sempre che gli articolisti sono la forza lavoro degli enti locali, inutile ma nascondersi, sono quelli che danno moltissime energie, moltissime risorse umane proprio all'interno dell'ente, quindi vanno stabilizzate, dopo 20 passane, tra coloro che stanno sospese, la Regione, ma soprattutto lo Stato, deve prenderne atto, deve stabilizzare. Si parla di uno sportello eventuale R6 che ben venga, purché si mettono in atto, io sono in sofferenza da 15, ora passo a 16 mesi, non ho rimesse dalla Regione, quindi lei si immagina, ho 70 passi articolisti, quindi il 50% della forza lavoro del Comune di Riposto, il Comune è arrivato a terra, fino ad adesso li ho potuti tenere, dopo non sarò. Quindi la Regione si deve subito fare carico di darmi le rimesse che ho anticipato per 16 mesi e lo Stato deve farsi il più grande carico, è quello di riconoscere questi figli che non sono figli di seconda generazione, è bello tutto quello che cerchiamo di fare nell'immagine europea, ma soprattutto guardiamo in casa e andiamo a vedere se ci sono questi figli al prodigio che ancora devono essere sistemati.